E' giunto il momento di cambiare il modello di sviluppo basato sull'uso delle fonti fossili, sulla produzione intensiva animale, basato sul consumo eccessivo del suolo per proporre invece un modello di sviluppo basato sulla sostenibilità. Credo che sia venuto il momento di fare seriamente questa discussione, non è una discussione facile, semplice perché vuol dire cambiare anche paradigmi, cultura, fare investimenti, credo di sicuro che sia venuto il momento di porsi seriamente questa questione a partire dall'attenzione che bisogna avere per l'occupazione, per i processi di riconversione che una discussione di quel genere comporta. Certo, l'ultimissima domanda, credi che comunque il percorso per arrivare a ciò sia davvero lungo? Non lo so, non è facile perché partiamo da altre logiche che sono state utilizzate fino ad ora e servono scelte politiche perché processi di questa natura non possono essere lasciati al mercato, c'è bisogno che ci siano scelte di politica pubblica e industriale che vadano in questa direzione. Grazie mille. Grazie mille.